Grazie. Ora passiamo all'interrogazione numero 3635 dei deputati Vacca e da altri concernente intendimenti del Ministro per la coesione territoriale in ordine alla sua partecipazione ad una commissione per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale a professore universitario. Il deputato Gianluca Vacca ha facoltà di illustrare la sua interrogazione a un minuto. Prego. Grazie Presidente, gentile Ministro, Professor Ministro. Per l'espletamento delle procedure dell'abilitazione scientifica nazionale è necessario costituire le commissioni composte da cinque membri, di cui quattro sorteggiati. Per il settore concorsuale 14 di 1 è stato sorteggiato membro della Commissione il Professor Carlo Trigilia. Il 28 aprile 2013 il Professor Trigilia è nominato Ministro del Governo Letta. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 luglio 1980, il 382, stabilisce l'aspettativa obbligatoria dei professori universitari per situazioni di incompatibilità per la durata della nomina alla carica di Ministro. Lo stesso articolo 13, per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso, è di dubbi e interpretazione. Ma, al di là dei cavilli, la presenza di un Ministro in una commissione per l'abilitazione scientifica nazionale potrebbe alterare, anche involontariamente, gli equilibri e l'imparzialità della commissione, pregiudicandone anche i giudizi sui concorrenti. Quindi noi chiediamo per quale reale motivo il Ministro interrogato non abbia ritenuto opportuno dimettersi da membro della commissione per la procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia per il settore concorsuale 14 di 1. Grazie. Allora, Ministro per la coesione territoriale, Carlo Trigilia, la facoltà di rispondere a tre minuti. Prego. Grazie. Desidero anzitutto precisare che sono stato nominato membro della Commissione per l'abilitazione scientifica nazionale il 4 gennaio 2013. La Commissione doveva terminare i propri lavori inizialmente entro il mese di maggio dello stesso anno, successivamente la data è stata spostata al giugno 2013. Il 28 aprile 2013 sono stato nominato Ministro del Governo Letta. quindi dopo ben quattro mesi dalla nomina a membro della citata Commissione. Sotto il profilo della legittimità è doveroso precisare che il DPR 11 luglio 80 numero 382 all'articolo 13,6 prevede la possibilità di continuare a partecipare a commissioni di concorso qualora la nomina a Ministro sia successiva a quella di membro della commissione di concorso. La norma infatti recita testualmente, per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso, sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni. Dal punto di vista dell'opportunità della mia decisione, intendo ribadire che al momento della nomina a Ministro erano passati quattro mesi dall'avvio dei lavori istruttori della commissione. Ne mancavano due alla conclusione dei lavori. Al riguardo, osservo inoltre che nei quattro mesi di lavoro la commissione aveva quasi completato i lavori istruttori per l'abilitazione alla prima fascia, alla quale partecipavano complessivamente 69 candidati. Qualora mi fossi dimesso da membro della commissione, si sarebbe determinato anzitutto un ritardo dovuto alle necessarie procedure per la nomina di un sostituto. Faccio inoltre presente che il nuovo membro avrebbe potuto in linea di principio rivedere tutti i giudizi da me espressi e in pratica determinare una situazione in cui la commissione avrebbe dovuto rivedere tutto il lavoro svolto fino al momento delle mie dimissioni, con un evitabile e inevitabile ulteriore ritardo nei tempi e aggravio dei lavori dei miei colleghi. Per questi motivi di economicità e continuità del procedimento, che peraltro costituiscono la razio della norma che ho richiamato volta a sospendere l'incompatibilità, ho ritenuto nell'interesse generale del buon andamento dell'amministrazione di portare a termine il lavoro ormai da tempo avviato, venendo così incontro più rapidamente alle legittime aspettative degli interessati. Peraltro si tratta di una valutazione, quella del buon andamento dell'amministrazione e del rapido soddisfacimento delle aspettative degli interessati, che dovrebbe stare particolarmente a cuore agli onorevoli interroganti. Concludo non senza rilevare con sorpresa e amarezza che uno dei firmatari dell'interrogazione, l'onorevole Vacca, è stato protagonista di un intervento su un video diffuso nel sito web di Beppe Grillo, nel quale si esprimeva col termine schifezza a proposito della mia decisione, con un giudizio sommario e infondato che evidentemente non teneva conto non solo della previsione normativa vigente, ma anche dei motivi di opportunità che ho prima richiamato, trascurando del tutto ogni considerazione relativa alla mia storia professionale e alla mia reputazione. Faccio infine presente che la critica rivolta, mi ho finito, Presidente. Era comparsa in rete, dapprima in forma anonima e successivamente a firma di un gruppo di non abilitati nel concorso in questione, peraltro con giudizi nettamente negativi, che si autodefiniva Comitato per il ricorso collettivo contro il giudizio di abilitazione del settore concorsuale 14 di 1. Non pensavo di trovarmi in questa Camera a discutere di questa questione. PRESIDENTE. Grazie, Ministro. Prego, Deputato Vacca, facoltà di replica due minuti. PRESIDENTE. Sì, ovviamente non sono affatto soddisfatto, bisogna dirlo, della risposta di queste, insomma, scuse che giustificazione lei ha cercato di dare. Ma, vedete, noi ci avete abituato ormai a vederne di tutti i colori, ma francamente un Ministro e una Commissione concorsuale ancora non l'avevamo visto e ci dicono che non si era mai avvenuto nella storia recente di questa Repubblica. Lei sa benissimo, Ministro, e quella frase nel DPR dell'80 è altamente ambigua. L'abbiamo fatta leggere a tutti i legislativi, anche qua della Camera, e quella frase di doppia interpretazione può significare una cosa, ma può significare esattamente anche il suo opposto. Quella sono fatte salve potrebbe significare sono salvaguardate, ma anche sono confermate le incompatibilità. E comunque, leggendo anche i resoconti dei lavori parlamentari quando è stata approvata questa legge, si capisce che la volontà del legislatore era chiara, evitare che il peso politico di una nomina politica come quella di un Ministro o di un parlamentare potesse alterare i lavori all'interno di una Commissione concorsuale. E ricordiamoci che stiamo parlando di 1980, con procedure completamente differenti rispetto a quelle che ci sono oggi. Comunque, due sono le possibilità, Ministro. O lei è ingenuo, completamente ingenuo, e francamente sarebbe grave per un Ministro, o lei è completamente in totale malafede, perché lei non può non sapere le critiche che ci sono state sui concorsi anche con la recente riforma dell'abilitazione scientifica nazionale. E lei non può ignorare, Ministro, il fatto che un Ministro in una Commissione concorsuale, oltretutto che convoca le riunioni, in un Palazzo del Governo, ricordiamoci che l'ha convocato la riunione del Palazzo a Largo Chigi, non può alterare gli equilibri dei lavori della Commissione. Lei quindi oggi avrebbe dovuto dirci le reali motivazioni per cui l'hanno spinta a non dimettersi, e non l'ha fatto. Quando noi abbiamo sollevato il problema avrebbe dovuto dimettersi immediatamente da Commissario e avrebbe dovuto dimettersi da Ministro. Speriamo almeno che con le recenti vicende non venga rinominato nella compaggia governativa del futuro Governo. Però le assicuriamo, Ministro, e assicuriamo ai cittadini che ci stanno guardando che prima o poi l'onestà tornerà di modo in questo Paese. Grazie. Grazie.